Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Game Play Ita. Oggi siamo su Ancestors, The Humankind Odyssey, sviluppato dai Panash Digital Games e distribuito dai Private Division. Private Division che mi ha chiesto di segnalare che il gioco mi è stato mandato da loro e che quello che io vi dirò sono pareri personali, le mie impressioni, assolutamente mie. Beh, prima di tutto desidero ringraziare Private Division per il codice di gioco quindi thank you Private Division for sending me a copy of Ancestors, The Humankind Odyssey e questo, ecco, era doveroso e niente, andiamo a provarlo, è un gioco assolutamente unico nel suo genere sviluppato da appunto un team di 35 persone, pochissime, un gioco unico forse nel suo genere e soprattutto un gioco non per tutti perché è un gioco dove andremo a gestire una progenie adesso ne creiamo una nuova, ne ho già fatte due e... i videosus perché all'inizio abbiamo solo principiante, usiamo tutto, quindi la HUD, il tutorial completo, facciamo maschio la particolarità del gioco è che, beh, in un video non vedremo tutto, non vedremo quasi nulla anzi, probabilmente avrete già visto queste fasi iniziali da tantissimi youtuber che a quest'ora lo avevano già portato ve lo voglio però spiegare un pochino nella sua essenza spiegarvi che cos'è beh, questa frase mi piace tantissimo, è ispirata a fatti realmente accaduti perché è vero è quello che noi eravamo milioni di anni fa infatti siamo 10 milioni di anni fa il gioco si estende fino a 8 milioni il gioco tratta di una... adesso vedo se riesco a saltarla questa no, non si può quindi ve la devo far vedere beh, onore ai nomi il gioco ci fa controllare una famiglia di scimmie e alla morte di una scimmia poi andremo a interpretarne un'altra quindi bisogna fare attenzione perché poi quando le scimmie sono finite, la famiglia è finita e il gioco è finito del tutto e in pratica andremo a sviluppare, facendo determinate cose sviluppando i sensi, appunto andremo a sviluppare il cervello, i neuroni di queste scimmie e quindi arriveremo al punto in cui potremo sbloccare un po' come punti abilità e le varie abilità tipo prendere l'utilizzo della mano, delle due mani anziché di una sola sviluppare la costruzione piuttosto che sviluppare l'olfatto, la memoria insomma, sono tantissime cose potremmo dare, diciamo, dei riferimenti ambientali a noi stessi e in pratica arrivati a determinati step il gioco valuterà quello che noi abbiamo fatto e quello che non abbiamo fatto ci manderà avanti di tot centinaia o migliaia di anni perché abbiamo un percorso comunque di 8 milioni di anni da coprire e in ogni step evolutivo che faremo non terremo però tutte le abilità che abbiamo sbloccato ma bensì solo alcune quindi dovremmo andare a ripetere le azioni che in passato ci hanno portato a sbloccare altre cose la cosa affascinante è che quello che vediamo ora è la vita come è anche adesso nella foresta, adesso qua siamo in Africa con l'unica differenza che loro non avevano nessun altro oltre a loro stessi e non come oggi che hanno gli uomini che poi stanno distruggendo tutto non appena finisce gli alberi finiscono gli alberi questo è un video molto molto duro ma esplicativo ve lo lascio seguire in pace comunque il gioco lo trovate solo su Epic Store non su Steam perché su Steam uscirà l'anno prossimo al costo di 39,99 siamo al volume 1 prima di noi la durata stimata di questo gioco da quello che ho visto sono 40-50 ore e un 40-50 ore possono essere distributti da un nostro errore perché come vi ho detto ogni personaggio che muore viene sostituito da un altro dello stesso clan ma vi siete mai chiesti come fate a sapere che quel fungo nel bosco piuttosto che quell'alimento è estremamente velenoso perché qualcuno prima di noi in tempi antichi lo ha provato al posto nostro e qua funziona uguale potremo trovare delle bacche assaggiarle e morire lo scopriremo lo sapremo e poi ci sarà utile per il futuro ora dobbiamo fare molta attenzione perché dobbiamo scappare al momento siamo questa scimmietta questa piccola scimmietta dobbiamo trovare un accampamento quindi in questo caso vedete che è l'unico punto che accampamento scusate esaminare questi luoghi vediamo un po' come si chiama questo rifugio ok e dobbiamo rifugiarci lì dobbiamo fare attenzione anche a tutti gli animali selvatici vedete queste poi icone di fauci stanno a simboleggiare la paura allora inizio con lo spiegarvi questo ci sono tre fasi di crescita della scimmia il piccolo l'adulto e l'anziano l'anziano non soffre della paura da quello che ho scoperto quindi mentre invece il piccolo si quindi in questo caso ci nascondiamo qui ci nascondiamo qui e e poi ora interpretiamo un'altra scimmia e in basso a destra potete vedere il riassunto del nostro accampamento vedete tre maschi due femmine e due piccoli di cui uno nell'accampamento e uno fuori infatti possiamo esaminare adulto e femmina fertile possiamo vedere chi fa parte della nostra famiglia chi sta con chi insomma anziano e arriveranno degli step in cui nell'accampamento per una cosa sempre da fare con attenzione potremmo metterci a dormire e il metterci a dormire farà trascorrere circa 15 anni quindi i vecchi moriranno gli adulti diventeranno vecchi e i piccoli diventeranno adulti allora con la Q vedete che abbiamo l'udito quindi possiamo no scusate quell'odore no no era l'udito l'udito sentiamo qualcosa arrivare da là dobbiamo fare attenzione che qua insieme a noi ci sono anche animali feroci intanto stiamo migliorando il metabolismo dobbiamo fare attenzione qua a saltare perché se cadiamo e moriamo prenderemo controllo di un altro membro del gruppo allora si sente casino lì quindi io uso anche la vista in modo da ok c'è il rifugio quindi dovrebbe essere lì a logica dovrebbe essere lì una volta arrampicati premiamo il tasto spazio il gioco non è ottimizzatissimo per la tastiera è giocabile ci dice che in ideale sarebbe col pad ma io col pad onestamente mi rifiuto allora vediamo un po' dov'è che abbiamo visto vediamo esaminiamo no vedete che qua ah eccolo lì lì è un rifugio vedete che poi se andiamo qui possiamo andare a esaminare le varie cose ma non troviamo nulla è qui? sei qui? piccolo? sì allora dobbiamo aspettare e tranquillizzarlo andare un pochino a ritmo vedete che risponde non dobbiamo essere troppo merda vedete che ci ha messo questa cosa qui significa che sta arrivando qualche creatura che ci ha fatto malissimo eh io devo finire la missione qua però devo tranquillizzarlo non so se mi ha morso un un mamba sì mi ha morso il mamba quindi vabbè io adesso me ne frego e completo la missione anche se ho avuto parecchia sfortuna sono fatte benissimo sono bellissime da vedere cioè veramente unico unico nel suo genere questo gioco non è per tutti quindi dovete avere quell'amore per la scoperta quella voglia di comunque fare delle azioni ripetitive sì certo perché comunque adesso la vista così offuscata ce la teniamo fino alla morte no in realtà dovrebbe esserci un modo mangiare qualcosa o bere qualcosa io comunque do un'occhiata se trovo l'accampamento era vicino all'acqua l'accampamento comunque dovremmo vederlo perché ce lo indica ci indica le altre persone ok là in viola ok di là vediamo se riusciamo ad andare relativamente in fretta no vedete che tende dal premuto spazio si corre e nel momento in cui molliamo lo spazio lui salta a meno che non smettiamo di dare la direzione prima e lui non salta eccolo lì un altro attacco ancora di nuovo mannaggia a te ci sono appunto come vi ho detto i serpenti io vorrei dare un'occhiata analizza ok sto analizzando l'acqua ho scoperto un nuovo cibo a questo punto io posso bere vedete che inizia a scendermi l'effetto del veleno ovviamente qua potrei trovarmi un cocodrillo comunque stiamo sviluppando anche i sensi come vi dicevo quando il gioco ci farà poi progredire di diverse centinaia o migliaia di anni dovremmo comunque con la nuova specie cambiata a livello intellettuale dovremmo rifare queste cose ed è quello che poi leggete anche nelle recensioni quando parlano comunque di un po' di ripetitività adesso cos'è cacchio è quello eh sì il serpente solo che non si vede una cepa perché allora in pratica il nostro villaggio dovrebbe essere vicino all'acqua villaggio per modo di dire poi potremmo anche fare delle costruzioni ma comunque stiamo parlando di tecnologia di 2 milioni di anni fa quindi insomma non sarò aspettate comunque di trovare un banished sul finire sull'endgame direi proprio di no allora adesso il mio senso dell'orientamento sapete che mi frega molto quindi magari adesso chiudiamo qui e ci ritroviamo quando siamo nuovamente al villaggio e intanto vedete che qui sta diventando una zona ignota quindi lui ha paura e non può quando ci evolveremo maggiormente potremmo andare ed esplorare nuove zone tra l'altro da qui io avevo visto anche un cinghialone quindi dobbiamo fare molta molta attenzione adesso potrei anche arrampicarmi su un albero il problema è che io nella mia prima primissima partita che avevo giocato ero caduto ero morto quindi prendendo in mano un altro membro del clan avevo visto il corpo della scimmia morta tra l'altro è possibile anche andare in alto e trovare quel nido tra l'altro lo potremmo anche pensare di fare perché ho visto che è possibile rubare le uova a quell'uccellaccio la però adesso vediamo perché c'è la rischio che io ok no ce l'ho fatta eccolo lì mamma mia che rischio bisogna prenderci molto 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 la mano vedete che su là dovrebbe esserci no ma sono là l'accampamento è là eccolo là vedete che adesso noi possiamo andare a identificare e memorizzare quindi ricordiamo che l'accampamento è là perfetto possiamo memorizzare solo un luogo al momento perché poi c'è anche il discorso della memoria infatti adesso ci resta assegnato dobbiamo fare molta molta attenzione perché lo faremo prossimamente anche andare a prendere le uova tanto non abbiamo fretta di fare tutto adesso perché siamo ancora in una delle zone iniziali del gioco quindi adesso magari acceleriamo in una delle prime fasi ero anche anche caduto da molto in alto e mi aveva rotto delle ossa e infatti poi camminavo malissimo io veramente vi dico i primi momenti di gioco sono veramente terribili soprattutto se siete dei pazzi come me iniziate a giocare senza interfaccia perché al momento sembra che nulla funzioni che sia tutto molto legnoso in realtà bisogna solo padroneggiarlo bisogna solo apprendere queste meccaniche come ho detto e ripeto per la terza volta non è un gioco assolutamente per tutti quindi la maggior parte di voi credo che fuggirà da questo video probabilmente non è mai arrivata neanche a questo minuto chi ha resistito credo che sia incuriosito ecco bisogna sempre fare scoprire e beh è il bello del gioco ripetere delle azioni quindi ogni progenio insomma ogni avanzamento di anni bisogna comunque andare a recuperare un po' di di conoscenze ho sbagliato strada bisogna andare di qua e adesso vediamo che cosa succede quando avrò riportato il piccolo in in casa adesso io dovrei salire si se magari ti arrampicassi contesia ok molto bene dovremmo essere quasi arrivati credo si che poi è fastidiosissima questa mamma mia ecco vedete poi in questi casi mi monta il nervoso perché non riesce a salire e non si sa dove andare però fortunatamente è anche finita la visuale punitiva quindi adesso saliamo e andiamo su ci risentiamo una volta che arriviamo ed eccoci tornati a casa siamo a casa avevo un bollino rosso che stavo quasi a significare che stavo per morire però vabbè comunque siamo tornati molto bello perché lui poi il piccolo torna e va a giocare con il fratellino eravamo noi questi ragazzi perfetto ora vedete che possiamo andare ad afferrare analizzare e abbiamo analizzato questo sasso vedete siamo il giorno 2 dell'anno 0 abbiamo scoperto un nuovo strumento la roccia di granito il vigore di personaggio ok no quando siamo sul rosso è limitata all'aspettativa di vita cioè in pratica se siamo anziani siamo già al limite ok vedete che qua possiamo in base quello che abbiamo in mano possiamo andare a fare diverse cose quindi in questo caso noi possiamo andare qua e col tasto Z possiamo metterci a dormire sul giaciglio ok infatti adesso è comparso e col tasto Z non si può andare a dormire adesso no non mi lasci ah lascio ok ecco lo Z mi sdraio lascia il piccolo evoluzione sonno facciamo la E evoluzione vedete che qua abbiamo tutte le varie diramazioni che stiamo intraprendendo con le varie cose che abbiamo sbloccato cose ce ne sono veramente tante non siamo ancora credo arrivato arrivati a far granché credo perché non abbiamo nulla di sbloccato richiede più pratica no abbiamo sbloccato questo abbiamo sbloccato energia neuronale di creare nuova abilità motoria ok abbiamo sbloccato l'abilità motoria capacità di passare un oggetto da una mano all'altra è stata acquisita tocca X per passare ok C ok e la C invece per usare le mani ok abbiamo già sbloccato altre cose cioè in pratica la possibilità di andare su altre cose che ci richiede ovviamente della pratica si usano i sensi non posizione retta insomma qualcosina c'è possiamo poi passare alla generazione dove vediamo la possibilità vabbè prima di tutto vediamo l'evoluzione siamo qui siamo a 10 milioni di anni attivare un'evoluzione ritrovati nell'insediamento attivo il tuo clan aver eseguito almeno un passaggio di generazione ed una conquista evolutiva come vi dicevo due nascite e una morte noi adesso possiamo andare a cambiare la generazione quindi praticamente possiamo passare da ma si facciamolo vediamo cosa succede tanto l'abbiamo buttata lì così i piccoli diventano adulti gli adulti diventano anziani e gli anziani muoiono quindi tecnicamente dobbiamo avere due adulti e quanti ne avevamo? cinque anziani? mannaggia ci sono meccaniche anche molto avanzate che si sviluppano dopo ore ed ore quindi è impossibile che le vediamo adesso in un video però insomma qua c'è già anche un morto giustamente quindi io vi ho illustrato il gioco infatti vedete adesso abbiamo cinque adulti e non abbiamo più anziani e a questo punto abbiamo credo adesso vediamo se abbiamo perso tutto vediamo l'evoluzione no ci ha tenuto l'abilità motoria no allora in pratica la generazione no l'evoluzione non la possiamo fare sono passati 15 anni vedete che il timer è sceso e non possiamo ancora evolverci perché ci manca una conquista evolutiva quindi non siamo arrivati a un certo punto guardate quanto grande è poi qua non abbiamo altri potenziamenti si continua a giocare cercando di raggiungere la conquista evolutiva in modo da poter passare all'evoluzione a quel punto l'evoluzione si risetta quindi quei neuroni che abbiamo sbloccato tipo la capacità di una mano o dell'altra in teoria dovrebbero risettarsi e dovremmo poter scegliere forse di tenere solo qualcosa però ovviamente sapremo già cosa fare nella volta successiva per andare a sbloccare determinate cose perché ovviamente qualche cosa nel processo di evoluzione si va a perdere probabilmente qualche azione che veniva fatta meno comunque il gioco ora ci lascia abbastanza in valia di noi stessi di andare ad esplorare un po' di cose quindi da ora si apre un mondo dove possiamo andare dove ce ne abbiamo voglia a questo punto potremmo anche fare un esperimento e tentare di salire in cima agli alberi e vedere dove è quello stramaledetto nido eccolo lì vedete quello lì è il nido dove hanno ucciso no non quello perché quello lì è una non lui non lui voglio il nido perché lì c'è un'altra scimmia sopra e può capitare voglio identificarlo ominide morto memorizzo ricordo e provo ad andare su andiamo su e vediamo adesso come ultima cosa e vediamo se possiamo prendere le uova bisogna fare attenzione perché veramente non è Assassin's Creed da saltare cioè bisogna premere proprio al volo ma tante volte non si capisce in che modo fa il salto e se non c'è niente siamo praticamente belli che morti quindi beh siamo arrivati su comunque senza problemi allora in teoria il corpo è morto da una vita da 15 anni sì infatti il corpo non c'è più no ha fatto bene questo infatti c'era la scimmia ancora intatta quando eravamo alla ricerca del cucciolo adesso sono passati 15 anni quindi mamma mia ragazzi ok ho trovato l'uovo a questo punto afferro l'uovo tieni per un trucco per analizzare l'oggetto nella mano destra ok grazie è un uovo levalo cibo nuovo scoperto uovo di falco giocoliere analizza membro del clan vediamo un po' analizzare il cadavere ok generare energia neuronale ok abbiamo esaminato il cadavere ok morto da 15 anni mamma mia ragazzi che figata cambia mano cambia mano con la x possiamo metterlo nella mano sinistra infatti adesso stiamo usando le due mani posso mangiarlo posso si buono alla facciazza tua anche queste uova avevano 15 anni però vediamo che cosa succede se mangiamo l'uovo eh insomma mal di testa cefalea rossore improvviso perdita di conoscenza no abbiamo lo stomaco sotto sopra mannaggia odorare vabbè niente andiamo no 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 eccolo lì ci siamo rotti tutte le ossa e non lo so probabilmente col pad è più più agevole come controllo però insomma bisognerà imparare bene come dove saltare perché adesso ho fatto un salto un po' alla cieca e non ho ben capito devo sicuramente prenderci la mano io eh non è che voglio accusare il gioco di essere legnoso però ho fatto veramente un salto così nel vuoto allora ragazzi queste grandi linee quello che Ancestors The Humankind Odyssey ha da offrire almeno nelle fasi iniziali ovviamente poi il gioco ci spinge a sbloccare l'insbloccabile a a evolverci fino al punto di camminare per da prima per qualche minuto in posizione retta e poi in modo definitivo e a questo punto io adesso mi lancio di sotto e non muoio comunque beh passerà prima o poi questa rottura delle ossa perché tutto fatto in modo abbastanza simbolico quindi temporeggio un po' e e mi passa spero vado a bere un po' d'acqua l'acqua dovrebbe averla mantenuta come conoscenza si infatti beve con le mani che mi fa bene mi fa passare ok il mal di stomaco dovrò scoprire ancora tante cose comunque fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate intanto io dovrei usare questo come se non ci fosse un domani per esaminare le varie cose andare là poi effettivamente e vedere che cos'è perché c'è il punto di domanda e poi in fase più avanzata potremmo anche riconoscere i luoghi quindi dare dei nomi o comunque far uscire i nomi dei luoghi quindi da quello che ho capito bene ragazzi fatemi sapere che cosa ne pensate ovviamente grazie ancora Private Division per il gioco e alla prossima ragazzi ciao 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 Ciao